Siamo all'innaugurazione del nuovo video parco Siamo all'innaugurazione Dico saluta Volevo spiegare che la partita è abbastanza bella E' certo male che c'è proprio la Juve e Henry Quindi abbiamo quello che forse che è Abbiamo un gnomo che è un metro e cento quindi credo che si è presto si riscaldi benissimo capire era signori 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 i nguodhi la prima guadino guadino e andrea all'idea ok 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 la parola il la parola e i i i